Ciao ragazzi e ragazzi e benvenuti su Investing Guide, che naturalmente iniziamo oggi 3 maggio con la notizia della decisione della Federal Reserve di 0,25% di segnali di aumento del tasso di interesse. Il tasso di interesse è aumentato del 0,25%, tale segnale naturalmente mostra qualcosa che gli analisti la davano come scontato, tant'è che non ci sono stati grandissimi movimenti per quanto riguarda gli indicatori e gli indici di borsa, proprio per quanto concerne la situazione attuale. Quindi la certezza che gli analisti stanno dando per scontato che il mese di giugno questo segnale di un indebolimento dell'aumento del tasso di interesse, cioè praticamente siamo a 0,25% non più 0,50% o di più, vuol dire che sicuramente sta già scontando la parte analitica dei trader, quindi gli investitori, che a giugno ci sarà una sorta di calma da parte della Federal Reserve nell'aumento dei tassi. Qui quindi è indicato il tutto, possiamo naturalmente andare a parlare del calendario economico per avere maggiori dettagli anche a livello settimanale, ma prima di fare questo ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, a registrarvi e a inserire naturalmente l'attivazione della campanellina e naturalmente per voi non costa nulla, ma per l'algoritmo di YouTube è importante, soprattutto a livello psicologico, fornire dei like è molto importante per sostenere psicologicamente, quindi non solo dal punto di vista di numeri e di algoritmo, ma anche psicologicamente per vedere e capire che siete interessati a qualche argomento e magari con dei commenti far capire dove puntare meglio tutte le mie altre informazioni. Quindi vi ringrazio sin da adesso. Ritorniamo naturalmente quindi sul calendario economico che vede domani segnali importanti per quanto riguarda l'Europa quasi iniziale, tranne l'America che fornirà naturalmente il valore di iniziale disoccupazione e poi tutto il resto conferenza stampa relativa alla signora Lagarde che parlerà sul tasso di interesse relativa all'economia, quindi allo stato dell'arte, lo statement. Quindi una sorta di conto, un estratto della politica monetaria della Banca Europea. Poi naturalmente venerdì ritorna a far capolino di importanza l'America con i non far payrolls, quindi le buste paga non agricole. Vedremo se saranno confermate in 180.000 buste paga non agricole e poi naturalmente del tasso della disoccupazione. Mentre ritornando a Bitcoin vediamo che siamo attualmente a 28.479 dollari che naturalmente è molto vicino alla situazione dell'apertura dei 28.683. Il prezzo attualmente a livello di entrata e uscita, ingresso e uscita tra l'apertura e la chiusura si sta muovendo molto poco, non c'è tanto movimento. Attualmente vediamo anche l'RSI che va verso il basso, non c'è gran che da dire per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin, se non il fatto che si sta muovendo in un pericoloso segnale di potenziale ritracciamento verso i 25.000. Speriamo che non lo sia, che si arresti intorno ai 27.000 e poi rimbalzi per mantenersi all'interno del canale tra i 30.000 e i 27.000, però naturalmente bisogna vedere naturalmente le condizioni al contorno. Andiamo a osservare un po' la situazione del flusso netto delle stablecoin che vede naturalmente in questi giorni praticamente calma piatta tranne 91 milioni di dollari in uscita. Andiamo a vedere naturalmente anche la situazione del non solo gli spot exchange ma i derivati, per i derivati vediamo la situazione di meno 175 milioni di dollari in uscita. Andiamo a osservare naturalmente Ether, per quanto concerne Ether, vediamo che la situazione per tutti gli exchange è in prevalenza di un'entrata di 302.000 Ethereum, vediamo naturalmente di suddividere tra tutti gli spot exchange il giorno, vedete che è praticamente quasi piatto gli spot exchange di acquisi, entrata di Ethereum, invece per quanto concerne gli derivati il giorno del primo maggio abbiamo avuto un ingresso di 305.000 dollari, quindi quasi tutto negli exchange di derivati. Bene, fatto questo naturalmente abbiamo capito che l'ingresso di Ethereum potrebbe rilevarsi interessante dal punto di vista di derivati, quindi naturalmente puntare su long short o altro, ma naturalmente su dei contratti. Ritorniamo naturalmente a osservare la situazione di prezzo di Ether, 1833 dollari che naturalmente si discosta ben poco dall'entrata 1866 della giornata odierna e quindi non c'è molto da dire. Il trend naturalmente sembra essere abbastanza rialzista dalla parte dell'inizio del 2023 e invece naturalmente abbiamo BNB che si sta muovendo lateralmente ormai intorno ai 324 dollari senza colpo ferire e con Ether che ha un 19.83 in salita degli ultimi tre giorni come dominance della sua situazione attuale come capolista, come regina delle altcoin e invece Bitcoin con leggera pressione a 48.17% di dominance. Attualmente l'indice del dollaro, il United States Dollar Index è 101.4 e leggera pressione dello 0,58%. Diciamo che quasi tutti siamo a parte la situazione di qualche, di meno 1,29% di cambio per quanto riguarda il BIX, volatility relativo allo standard P500, poi tutto il resto siamo sotto la percentuale 0,79, 0,30, 0,40, quindi praticamente come se non ci fosse stato granché di movimento, come se tutto fosse già scontato. Come potete osservare il prezzo dell'oro attualmente si sta muovendo al di sopra dei 2.000 come valore potenziale realizzato ormai del valore di resistenza, però sta ballando intorno a quel valore, non c'è ancora un certo tipo di segnale che sembri poter far funzionare una possibile salita. Inoltre, osservandolo proprio in questo frangente, possiamo osservare una situazione di un RSI con due punti di contatto ribassisti e invece per quanto riguarda il prezzo rispetto all'RSI Relative Strength Index, ossia l'indice dello sforzo relativo, abbiamo due punti o anche più di indice che sta andando il prezzo verso l'atto. Questa naturalmente si chiama divergenza di queste linee che compone un oggetto di possibile inversione di trend. Però comunque vedremo naturalmente la situazione. Stesso discorso, digasi se non, ma meno accentuato per quanto riguarda l'argento. Bene, naturalmente ragazzi, la situazione è questa. Per poter naturalmente prendere in considerazione la capitalizzazione, siamo leggermente più bassi, 1178 miliardi di capitalizzazione anziché 1200 con una perdita del 4% per Bitcoin negli ultimi sette giorni, 3 di Ethereum, terza posizione per Dollaroteter, BNB alla quarta posizione, Dollar Circle stabile alla quinta, sesta posizione per Ripple a meno 4.46% di discesa delle ultime sette giornate, 6.7% Cardano, perdita del 4.87% per Dogecoin, non la posizione a 3.81% in perdita per Polygon Matic, Solana decima a meno 4,92%. Per quanto concerne invece le notizie da CryptoPanic, che magari possono essere rilevanti, liberisco CryptoPanic.com, andate su questo sito, potete sempre trovare qualunque informazione importante in base anche alle vostre attitudini, anche alle vostre preferite criptovalute, che magari state seguendo di più rispetto alle principali, che sono Bitcoin e Ethereum, che servono come cardine dell'analisi, diciamo logica, dell'analisi della situazione del mondo delle criptovalute, ma magari se voi siete più a vezia del mio teatro, andate qui, trovate tutte e potete naturalmente cliccando su Search, scrivere la criptovaluta di vostro interesse, oppure naturalmente sfogliare quella degli ultimi giorni per cercare di trovare qualche info che può essere rilevante. Naturalmente si può anche andare direttamente su Cointelegraph.com e in questo sito naturalmente avete la possibilità di avere una sorta di ultime informazioni, quelle più rilevanti, legate naturalmente a Bitcoin e altro. E proprio qui all'interno di Cointelegraph troviamo che lo standard del BRC20, Bitcoin Token standard, diventa una nuova destinazione per i token di tipo meme, stiamo parlando dei token meme, come per esempio il famoso Shiba Inu o Dogecoin, per esempio questo BRC20 come market cap ha visto una più 600% nelle prime, ultime praticamente passata settimana, con una sua transazione in termini di volume che ha superato lo standard delle transazioni di Bitcoin all'interno della rete, della blockchain di Bitcoin. Quindi tutto sommato diciamo che questa BRC20, come c'era le RC20 per quanto riguarda lo standard delle altcoin all'interno di Ethereum, è divenuta una sorta dell'ultimo trend dell'ecosistema delle criptovalute, specialmente dopo la Pepe meme coin che ha sollevato naturalmente Scalpone nell'ultimo mese, il fatto che ci sia stata una sorta di Shiba Coin, di Shiba Inu che si presenta all'interno del canale della blockchain di Bitcoin. Naturalmente tutto fatto come nuovo sviluppo della blockchain di Bitcoin che accetta anche dei token. Quindi un totale di 8500 diversi token sono stati mintati usando lo standard BRC20 con una maggioranza di quelle naturalmente di token, BRC20 che sono stati i propri meme token, mcoin scusate, come pure naturalmente Pepe e meme. Quindi è un esperimento naturalmente dello standard di Bitcoin a livello di blockchain modellata sulle basi di RC20 di Ethereum e questo permette ai programmatori di creare e trovare anche fungibili token via il protocollo Ordinalz. Sebbene questi modelli dopo le RC20, BRC20 token erano stati fondamentalmente diversi da quelli del suo precessore o comunque dell'alternativa di Ethereum perché BRC20 token non fa uso degli smart contract, questi token a livello di standard anche naturalmente richiede un wallet Bitcoin per mintarli e quindi tradarli. Quindi diciamo che è ben diverso dal discorso del token legati a Ethereum perché in Ethereum ci sono i smart contract e quindi siamo una sorta di piattaforma che permette l'utilizzo di app oppure di società le DAO e gestisce naturalmente dei contratti intelligenti connessi con delle criptovalute e quindi le funzionalità sono molto molto più ampliate e diverse rispetto alle semplici funzionalità che può avere questo BRC20. fatto sta naturalmente che continuando le informazioni vediamo anche, che so, cripto.com che lancia chat GPT basato sull'intelligenza artificiale come user assistant chiamata EMI, quindi il vostro utente con cui parlerete, il vostro impiegato della cripto.com in futuro o a breve. Non sarà una persona ma sarà un'intelligenza artificiale con cui potrete naturalmente dialogare e chiedere supporto per i vari problemi che possono esistere all'interno di cripto.com. Poi ci sono anche altre notizie dove i miners di bitcoin addirittura hanno guadagnato 50 miliardi dal blocco di reward del fee naturalmente dal 2010, 50 miliardi da bitcoin come fee. Questo naturalmente nel complessivo ma naturalmente fa capire i guadagni che possono essere anche rilevanti per quanto concerne i miners nel tempo e quindi ci sono anche come potete osservare bene un grafico preso da Glassnode che descrive naturalmente l'accumulo di 50 miliardi in verde come linea che parte, parte, parte e va esponenzialmente crescendo passando attualmente il tempo negli anni dal 2020 al 2023 vedete come l'aumento è arrivato ad aggiungere a livello cumulativo 50.2 miliardi di dollari di guadagni dalle fee dal 2010 ad oggi. Quindi sicuramente abbastanza rilevante come informazione. E poi naturalmente nel dettaglio poi potete trovare altro. Ragazzi quindi io vi dico per il momento la situazione di bitcoin. Vede il prezzo 28.500 circa nel momento della lettura. Chiudiamo il video in questa situazione perché comunque sia dobbiamo attendere domani anche la comunità europea come si muoverà e come andranno naturalmente le ulteriori informazioni macroeconomiche per eventuali aggiornamenti o altro. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie ancora dei vostri like e ci risentiamo. A presto. Ciao.